La fase seconda della preparazione della critocibe diotropa consiste nella declassazione dello stesso prodotto, praticamente allungando il soffritto con un brodino vegetale di porcini che abbiamo aggiunto, cucine reali, che abbiamo aggiunto alla critocibe diotropa, abbiamo bagnato con della vernaccia, bagniamo ulteriormente con un brandy per mettere a fuoco, un René togliamo la neppetella che ormai ha fatto il suo corso, togliamo anche l'alloro, togliamo l'aglio eventuale anche se alcuni preferiscono ottenerlo e praticamente il fungo è quasi pronto. Siccome il fungo deve cucinare un po' aggiungiamo un po' di brodo vegetale di funghi per avere la sicurezza e la certezza che il fungo sia cucinato, che perda tutte le sue caratteristiche di velenosità. Grazie. 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 Grazie.